A maggio nuovi posti di lavoro in città grazie all'apertura di un call center della Exa, azienda che ha sedia a Roma e all'Aquila, con commessa di FastWeb al momento che impiegherà 100 persone per partire. A presentare il call center, il sindaco Pierluigi Biondi, Luca Mastropaolo, Chief Consumer Small Business Officer di FastWeb, e Fabio Montagliani, Aquilano, per conto di Exa, oltre a Fabio Frullo, consigliere comunale con delega al lavoro. Il call center aprirà negli spazi del Tecnopolo d'Abruzzo. Il sindaco ha ringraziato Exa e FastWeb. Dal 2017 con Exa sono 20 le aziende che già si sono insediate nel Tecnopolo d'Abruzzo. Per noi vuol dire coniugare una serie di cose, vuol dire coniugare qualità del lavoro, produttività e comunque sviluppo del territorio, perché è una cosa che ormai perseguiamo da 4-5 anni. Questo è già un'ultima tranche del lavoro che è cominciato con progressive internalizzazioni, rientre di lavoro dall'estero che abbiamo in Albania e Romania. Oggi abbiamo una presenza ormai marginale e abbiamo ormai reintrodotto almeno 300 posti di lavoro in Italia, tra Lecce, Cagliari e adesso l'Aquila, dove ci sono 150 nuovi posti di lavoro. È un inizio, parte da maggio, poi un call center che oggettivamente potrebbe ulteriormente svilupparsi un po' per la crescita dei clienti di Fast, un po' per altre commesse. Questo lascio ovviamente a Exa, che è il committente, eventuali commenti in merito. Però noi siamo molto contenti perché almeno le precedenti esperienze hanno dato risultati ampiamente positivi, sia ovviamente a livello occupazionale, ma anche come azienda. Siamo molto contenti, proseguiremo fino alla chiusura definitiva delle nostre operation estere. La scelta dell'Aquila non è a caso, è avvenuta dopo un selettivo confronto. Noi attualmente abbiamo l'opportunità di iniziare questo rapporto con Fastweb, poi evidentemente l'obiettivo è quello di far bene da subito e quindi a valle continuare a avere questa opportunità di crescere anche con Fastweb. Attualmente il piano di inserimenti è completato e quindi poi parallelamente al discorso che sto facendo prima, con l'obiettivo di far bene, potenzialmente crescere con i volumi ed evidentemente anche con le persone.